Sto morando! Sto morando! Sto morando! Sto morando! Sto morando! Ah! Tu! Si! Si! E che va si amassare un cristiano? Ma cosa lo devo fare io? Allora... Ammuccio cane! Sto finito in bottina che c'ha rosato e che sta facendo tutta cosa! E tu! E tu la mazzalla, la sceppala, lui ti abbassare la famiglia sua, capito? La sceppala la tiestra, la sceppala! Che venga a tirini! Andai a scannare che sta! Non devi scannare! E tu la famiglia a scannare! E cosa hai già fatto? Pecciotto, abbassati! Don Vito non ti ha detto di avanzare! Ah, dai! E qui tu rispetto della potenza per la famiglia! Perchè il mio! E per chi è? Perché! E per chi è? E per chi è? Ma lei confessa che sarà molto generosa! Lo capisci eh? Ho capito! Ho capito! Ho capito! Ho vinto a cosa buona e giusta, ricorda! Non ricordo! Da oggi, hai parte della famiglia! Hai parte! Inginottiti! e poi c'è il senso di madre ma io lo puoi dire bravo posso andare un bacio un bacio un bacio